Grazie Presidente. L'Egitto e l'Unione Europea si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali, i diritti umani come i diritti costituzionali di tutti i loro cittadini. Parole scritte del partenariato U-Egitto 2017-2020. Parole che risultano paradossali, amaramente surreali, pensando che nel territorio del nostro partner, chiunque voglia indagare sui circa 378 casi di sparizioni forzate, viene zittito brutalmente, come dimostra il recente caso dell'avvocato della famiglia Reggeni, Ibrahim Matwali Hegazi, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Tora. Gli sono stati tolti tutti i vestiti e il suo corpo è stato sottoposto a scosse elettriche. È in isolamento, senza energia elettrica, la cella è piena di spazzatura. Lo dice la Commissione Egiziana per i diritti della libertà, alla cui sede oggi l'autorità egiziana probabilmente metterà anche i sigilli. Rafforzare la cooperazione con l'Egitto è un'aspirazione che condividiamo, ma non possiamo chiudere gli occhi nel far tacere la nostra voce davanti al vergognoso silenzio sul sequestro, sulle torture e sulla morte di Giulio Reggeni. Un ragazzo italiano, un cittadino europeo. Non siamo e non saremo complici di una utilitaristica ipocrisia e oggi, come sempre, chiediamo a gran voce verità e giustizia per Giulio Reggeni.